Carenza di personale a Maria Santissima Dolorada di Eboli. Arriva la nota firmata dal referente Will FPL Medici dell'ospedale di Eboli Giancarlo Giolitto e dei rappresentanti sindacali della segreteria Vincenzo Romanzi e Vito Sparrono, nella quale indicano con chiarezza la necessità che si intervenga immediatamente nel garantire al presidio ospedaliero di Eboli quella dotazione organica che consenta agli operatori di assicurare l'assistenza sanitaria necessaria. Vogliamo l'immediata assegnazione di personale, medico e di comparto anche in considerazione delle procedure di reclutamento avviate ormai da molti mesi e non ancora concluse. La Will a tal proposito lancia accuse precise. Procedure rispetto alle quali si chiede di conoscere formalmente le motivazioni del ritardo circa la loro conclusione e chi eventualmente sia determinando tal ritardo. Infine un messaggio. In difetto di tutto quanto richiesto saranno attivate tutte le azioni a tutele, garanzia dei malati e degli operatori.